Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oppo arriva anche nella fascia media nel nostro paese con Oppo A9 2020. È un medio di gamma che forse non è il migliore in commercio, però comunque l'ho provato e ho visto se va bene e se è comunque paragonabile ai suoi competitor. Vi dirò tutto nella recensione, iniziamo subito dopo la intro. Partiamo dalla convinzione che comunque è molto completa, c'è anche la cover in silicone, ci sono gli auricolari che sono molto molto simili alle Apple e AirPod, comunque saranno comodi ad alcuni di voi perché sono comunque cuffie molto apprezzate. Poi c'è un caricatore da parete, c'è un cavo dati da USB-A Type-C, manualetti di soluzioni vari e anche il pin per aprire il carrellino che può sfruttare sia due nano SIM che una micro SD, quindi ci sono tre slot separate, quindi questo è ottimo. Parliamo invece di qualità costruttiva materiale, devo dire che è buona, sì è in plastica, se comunque nei bordi laterali si vede e si sente che è plastica, sul retro invece, mentre sul retro potrebbe sembrare vetro invece è plastica, però comunque al tatto è ben costruito, non è troppo scivoloso, insomma è un telefono che è sì grande, perché comunque è un 6,5 pollici, però diciamo si usa abbastanza bene, non con una mano e non è tanto scivoloso. Non è nemmeno pesante, pur avendo una 5000 ampere comunque si riesce a usare tranquillamente. Per quanto riguarda i componenti invece abbiamo il tasto di accensione che è sul lato destro, su quello sinistro c'è il bilanciale del volume, devo dire che alcune volte ho regolato il volume per sbaglio, poi c'è anche il triplo carrellino, c'è ovviamente il fuoretto per aprirlo e si apre col pin che è presente in confezione, sul lato superiore c'è soltanto un microfono, mentre sul lato inferiore c'è la USB-C priva di uscita video, c'è il gioca per le cuffie, uno speaker e un microfono, mentre sul lato ci sono le quattro fotocamere con il flash LED e un lettore di impronte che è molto veloce e molto preciso, devo dire che funziona sempre ed è comodo, comunque è una posizione che ormai è ben collaudata, anche se ormai ci sono molti lettori sotto lo schermo, ma comunque devo dire che funziona benissimo. Nel caso trovate anche lo sblocco facciale che non è velocissimo, non è nemmeno sicuro, però comunque fa il suo lavoro, quindi quando non vogliamo usare il lettore ci potrà sbloccare lo stesso. Adesso invece vediamo la scheda tecnica. Display 6,5 pollici, IPS HD+, 19 nonni con noccia goccia, processore Qualcomm Snapdragon 665 Octa-Core, RAM 4GB, memoria interna 128GB espandibile tramite microSD, fotocamere posteriori 48MP f1.8 più 8MP ultra grandangolare f2.2 più 2MP f2.4 e 2MP f2.4. Fotocamera anteriore 16MP f2.0, connettività Wi-Fi dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Type-C jack da 3,5 mm, sistema operativo ColorOS 6.0 con Android 9.0 Pie e batteria da 5000A con il carica rapida ma non wireless. Invece parliamo del display che forse la caratteristica che non spicca di più ma comunque è un 6,5 pollici, è soltanto HD+, è 19 nonni e c'è comunque il noccia goccia per la fotocamera frontale. Devo dire che comunque seppur la scheda tecnica non è delle migliori, devo dire che è un pannello molto luminoso, sono buoni anche gli angoli di visione e i colori sono fedeli. Ho provato a cercare questi famosi pixel che si dovrebbero vedere alla seconda di altre recensioni ma devo dire che non li ho visti. Comunque diciamo che nell'utilizzo quotidiano non si fa tanta attenzione ma mi sono sforzato e devo dire che anche per vedere i film, video che comunque arrivano fino all'HD+. Anche la luminosità automatica fa il suo lavoro, poi avendo una risoluzione così bassa, i caratteri sono più grandi quindi per chi ha problemi di vista, per esempio un anziano o comunque chi ha bisogno di caratteri più grandi, farà sicuramente meno fatica a leggere quindi da questo punto di vista è una buona cosa. Comunque Giflake alla fine ha fatto il suo lavoro e non ha avuto grosse difficoltà. Mentre per quanto riguarda la connettività, devo dire che il Wi-Fi dual band prende bene, c'è il GPS che è un fixo veloce, c'è il Bluetooth 5.0, c'è anche l'NFC per i pagamenti, mentre la parte telefonica devo dire che il volume è alto e ci sentono bene e anche la ricezione è buona, non ha avuto nessun tipo di problema. Anche da l'iva voce comunque ho sentito bene il mio interlocutore. Mentre per quanto riguarda il software abbiamo la ColorOS e ancora la 6.0, quindi non ancora la 7, quindi ancora Android 9.0 Pie e poi ci sono le patch di sicurezza che sono piuttosto dotate e risalgono a settembre 2019 nel momento in cui sto registrando. Quindi se siete amanti degli aggiornamenti diciamo che io ho po' al momento dalle prime impressioni, considerato anche che comunque sono in Italia da un paio d'anni, devo dire che non aggiornano benissimo. Comunque a ColorOS 7 penso che arrivi, non ne sono sicuro ma dai rumor sembra di sì, comunque speriamo, comunque nel caso ve lo farò sapere. Come interfaccia, come vi ho detto varie volte, non mi convinci esteticamente, poi ha vari bug. Comunque il launcher solito della ColorOS con il drawer, anche se non bellissimo, ha comunque le sue impostazioni, c'è la pagina a sinistra con alcuni widget, i toggle rapidi sono quelli enormi, tutti colorati, che non sono bellissimi, però comunque le impostazioni base ci sono. Diciamo che magari manca uno solo di temi. Abbiamo anche i servizi di Google, ovviamente perché Oppo comunque vende in Europa da un paio d'anni. Le aprile di sistema sono fatte bene, come bug ho notato che le notifiche permanenti a volte scompaiono, resta lo spazio vuoto ma sparisce la notifica. Quindi questa è una cosa un po' faccita, se puoi ho notato che se fate partire un video togliendo l'audio prima, l'audio a volte parte lo stesso, quindi questo può essere un problema. Quindi per esempio questo può essere un problema se vogliamo vedere un video senza l'audio, magari senza disturbare le persone che ci sono attorno, quindi questo è una cosa fastidiosa. Insomma è un software che ha ancora traduzioni fatte male, ma diciamo che più che altro sono approssimative, quindi non mi convinco, insomma diciamo che il software è assolutamente da rivedere perché ancora non mi convince. Poi comunque sono gusto, magari a voi piace, ma io comunque vi racconto le mie impressioni di un telefono. Mentre per quanto riguarda le prestazioni, la scheda tecnica è comunque paragonabile ai competitor. Stampede Dragon 665 che è comunque un processore collaudato, abbiamo 4 GB di RAM e anche 128 GB di memoria interna espandibile. Devo dire che non gira malissimo, comunque alla fine l'apertura delle app non sarà full mini, ma si aprono, comunque i tempi sono abbastanza buoni e le app comunque rimangono anche fluide. Però confrontato con alcuni telefoni della concorrenza, magari con un software più leggero, più ottimizzato, diciamo che lì si hanno prestazioni che sono un filo superiore a quest'op. Non che giri male, ma devo dire che un po' la differenza si nota. Non la di trascendentale, ma ve lo segnalo. Comunque la RAM sono 4 GB e bastano. Non ho notato particolari caricamenti di applicazioni. Nei giochi comunque gira abbastanza bene, non ci sono grosse difficoltà. La vibrazione nella media e poi devo dire che ho avuto comunque qualche impuntamento, qualche volta che ho dovuto riavviare il telefono che non mi sarei aspettato perché comunque è così imputabile la software. Parlando di molti media età, come vi dicevo abbiamo 4 fotocamere, però alla fine i due sensori da 2 megapixel ciascuno che serve per l'effetto di campo, devo dire che non le ho trovate utili. Mentre comunque la grande angolare ha una buona apertura e non distorce. E poi c'è anche la fotocamera principale da 48 megapixel che è comunque un sensore che è ben noto. Comunque devo dire che gli scatti sono veloci. L'applicazione fotocamera della ColorOS è fatta bene, è semplice e intuitiva. E vuol dire che gli scatti con tanta luce convincono abbastanza, diciamo che sono luminosi, i dettagli non sono male. Mentre quando scende la luce qua aumentano i problemi, ci sono più rumore video, le foto vengono meno bene ma comunque nulla di trascendentale. Poi comunque c'è l'intelligenza artificiale che in assenza di molta luce attiva la modalità notte che migliora un po' le cose ma non stravolge. I selfie vengono abbastanza bene, abbiamo 16 megapixel. I video arrivano fino al 4K a 30 fps, diciamo che non sono molto stabilizzati, quindi sono un po' mossi. Ma in generale comunque non sono assolutamente male, comunque vanno bene per l'utilizzo social. Seppur comunque lo schermo sia solo HD, quindi vanno visti su un televisore o su un computer per godere della massima risoluzione. Mentre per quanto riguarda l'audio, il volume è alto e sente bene. C'è anche il giacchio per le cuffie e c'è anche la radio FM che sono cose che nei modelli di fascia alta sono più difficili da trovare, invece qua nella fascia media per fortuna è più facile trovarli. Mentre parliamo di autonomia che è davvero una delle funzioni migliori di questo telefono che dura davvero tantissimo. Ho riuscito a fare anche due giorni, quindi si arriva verso le 20-21 del secondo giorno con anche 7 ore di schermo. Magari con un uso più pesante arriverete magari comunque a sera, diciamo con una 5000 ampere diciamo fare almeno un giorno e mezzo secondo me è molto probabile. Poi comunque se fate un uso leggerissimo magari anche un po' di più, ma in generale io con un uso che non è pesantissimo ma nemmeno troppo blando, devo dire che con questa 5000 ampere ho fatto sempre due giorni, quindi lo ricaricavo una notte sì e una no, quindi la notte lo mettevo in modalità aerea in modo da consumare il meno possibile e comunque devo dire che consumava un 5-10% e non utilizzandolo, diciamo che comunque a occhio sono le stime che ho notato, ma forse anche il 5% secondo me perché non di più. Siamo giunti alle conclusioni, il prezzo di listina di un paio di mesi fa era di 250 euro che è decisamente troppo per quello che offre. Adesso si trova intorno ai 199 che è diciamo che è un prezzo più in linea con i competitor, un prezzo che diciamo che li vale, però se scende di 50 euro e va a 150 secondo me diventa più interessante. Diciamo che è un telefono ben costruito, gira abbastanza bene, le foto vanno abbastanza bene anche qua, l'autonomia è ottima, il software andrebbe migliorato, sta bene nella fascia media ma ci sono competitor che vanno meglio, per esempio se avete a trovare un Redmi Note 8T quello è meglio. Diciamo che se trovate anche un Galaxy A50 di Samsung che avendo già uscito il nuovo modello ma anche l'A40 diciamo che hanno caratteristiche e un filo meglio di questo. Comunque in generale a 150 euro ve lo potete consigliare, a 199 invece è già più difficile anche se mi sono trovato bene ma diciamo con tutte le alternative che ci sono in commercio diciamo forse magari anche qualche Huawei forse va a un filo meglio, diciamo che mi ha convinto abbastanza se vi piace comunque compratelo perché non va male. Vi ringrazio per questo sample, grazie anche a voi della visione, iscrivetevi al canale, commenti aperti per qualsiasi dubbio, iscrivetevi al link all'acquisto e al link anche alla recensione scritta sul sito dove aggiungerò altre considerazioni che mi verranno in mente nei prossimi giorni, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima sempre qua sul mio canale, ciao!